Parte a Forlino una campagna di sicurezza stradale volta a tutelare pedoni e ciclisti, tra i momenti in cui sarà articolata. Il primo, educazione stradale e formazione in strada attraverso volantini e indagini conoscitive. Poi verifica delle carenze infrastrutturali dei percorsi pedonali e ciclabili. Infine controlli mirati a sanzionare i comportamenti scorretti degli utenti stradali. A fine novembre la verifica della campagna condotta dalla Polizia Municipale con l'ausilio delle associazioni di volontariato. Noi abbiamo come Polizia Municipale di Forlì individuato due progetti che intendiamo sviluppare nell'arco di quest'anno che ha come obiettivo quello di tutelare l'utenza particolarmente debole. Intanto perché la scelta di rivolgersi ai pedoni e ciclisti? Perché abbiamo visto che nella incidentalità che colpisse purtroppo spesso anche il Comune di Forlì abbiamo visto che molto spesso le persone coinvolte sono o pedoni o ciclisti anche perché poi sono un'utenza particolarmente debole. E quindi questi due progetti che il personale seguirà a partire praticamente da oggi con questa conferenza stampa fino alla fine dell'anno è fatta di due momenti particolari. Un momento di prevenzione in cui cerchiamo di dare ai ciclisti e ai pedoni e ovviamente agli automobilisti che sono altri soggetti interessati a questo progetto la informazione corretta di come ci si comporta da pedone, di come ci si comporta da ciclista proprio perché le regole del codice da strada hanno come funzione quello di proteggere la persona che le rispetta. Grazie. Grazie.